Ogni anno sono centinaia le giovani vite spezzate dagli incidenti stradali provocati molto spesso da alta velocità, imprudenza e disattenzione alla guida. La prevenzione parte sempre dai più piccoli, da chi ancora non ha preso la patente. Per questa gioiosa marea in occasione del Rally Costa Saracena, gli studenti dell'Istituto Comprensivo sono stati coinvolti in incontri sulla sicurezza stradale. Dal 2007 stiamo seguendo i ragazzi in questo progetto, che è partito col Sara 6 Factor e a lato facciamo anche questi incontri che secondo me danno tantissimo ai ragazzi, danno tantissimo a tutti, non solo ai ragazzi ma anche chi ascolta, le maestranze, le scuole. Per sensibilizzare e formare soprattutto i ragazzi a rispettare le regole, le regole in questo caso della strada, perché sappiamo quanti incidenti ci sono e quanto magari i ragazzi non sono a conoscenza di alcune regole, e soprattutto di comportamenti. Sulle strade si può a volte correre, ma solo se si è in condizioni di sicurezza e si sta facendo sport come il rally. Come sappiamo le gare sono una fase particolare di guida, per cui è importante anche lì rispettare alcune regole. La manifestazione mi ha chiesto, è nata quest'anno, è la prima edizione, abbiamo avuto un bel po' di attesioni, un po' sotto le aspettative, però visto il momento ci può stare, comunque siamo contenti di poter rilanciare una gara che mancava in questa zona da cinque anni. Il nostro intento è quello proprio di portare con questi incontri che facciamo in occasione del rally in questo caso, proprio per significare che il rally, che è una competizione sportiva su strada, ci sta, ci sta bene, però anche il rally ha delle determinate regole. Quando si corre in auto si corre in delle strade che sono state appositamente chiuse, dove transitano solo le auto di gara, non si può fare la gara nelle auto aperte al transito e anche ai pedoni, questo è il punto.